Che grande onore, che emozione essere qui di fronte a voi oggi. Siete delle stelle, delle stelle che brillano nel firmamento dei diritti civili e siete delle stelle che illuminano il cammino di tutta l'umanità. Grazie, grazie a voi. La vostra lotta per l'affermazione dei diritti civili, della libertà e per la riconquista dell'Iran deve essere un onore non solo per voi e per il vostro popolo, ma per tutti noi, per tutte noi e per il mondo intero. Ed è un onore in particolare per me essere stata in questi giorni insieme a voi. Siete l'esempio, l'esempio del coraggio, il coraggio delle donne che supera la paura, che supera anche la minaccia delle violenze che pure avete seguito e subito. È la forza della signora Presidente Rajavi. Il suo sguardo intenso e rassicurante segna il percorso verso la riconquista dei diritti civili. Ed è la forza che assumiamo anche noi oggi, lo hanno detto le amiche che mi hanno preceduta, per mettere in campo anche in politica azioni concrete di lotta alla disuguaglianza, alla disuguaglianza tra uomo e donna che ancora esiste, esiste anche in Occidente, esiste nel mondo del lavoro, esiste nella società. E allora oggi qui noi siamo la testimonianza che insieme possiamo unire le forze e lottare con grinta e con coraggio contro le disuguaglianze. Le donne, siete voi donne la forza del cambiamento ed è importante non diventare complici delle disuguaglianze, dei regimi sanguinarie e quindi di impegnarci, impegnarci tutte insieme. Dobbiamo lottare insieme per conquistare spazi sempre più larghi nella società, nel campo del lavoro, nella politica, perché le donne siano come gli uomini, ma preservino sempre la loro, la nostra femminilità. Voi siete la risposta, la risposta più bella, più forte al regime sanguinario e siete il riscatto e la vittoria di tutte quelle donne che hanno pagato con la loro vita il prezzo della libertà e io oggi vi ringrazio anche per tutte noi. E allora dico questo e concludo per non sottrarre tempo a chi ancora dovrà parlare. Io ci sono, sono pronta, insieme a voi, accanto a voi, per essere la testimonianza qui e in Europa che il cambiamento passa attraverso il mondo bellissimo delle donne. Grazie sorelle, grazie amiche. Grazie.